accanto diciamo una storia diciamo così più medica c'è uno dei problemi che ha avuto la nostra regione è stato quello della dell'informazione si faceva fatica in questi questi mesi a cercare delle informazioni soprattutto quando l'informazione arrivava da dalle istituzioni si faceva fatica a trovare delle informazioni che fossero affidabili spesso non arrivavano erano contraddittori eccetera quindi la cosa che chiediamo soprattutto in questo adesso a duccio facchini e la sua esperienza di giornalista in questi mesi in relazione soprattutto la trasparenza istituzionale e in particolare con la della regione lombardia e come è stata questa trasparenza grazie buonasera a tutte a tutti anche da parte mia grazie per l'invito e per l'organizzazione di questo interessante seminario allora io mi impegno a stare sotto al quarto d'ora e per raccontare un po dal nostro punto di vista di alta economia una rivista mensile indipendente quello che è stato un po la risposta da parte della regione lombardia come dicevi giustamente tu marco a una richiesta di trasparenza e allora quello che noi abbiamo cercato di fare dal più o meno dall'inizio dell'emergenza covi 19 lombardia è stato quello di capire come stessero andando le cose attraverso la lente delle ats delle sst quindi come diceva giustamente prima manuela ehm dal parte delle otto eh agenzie di 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 tutela della salute e la trentina scarsa di sst e irx quindi le chiamiamole impropriamente le aziende ospedaliere e come abbiamo cercato di farlo abbiamo cercato di farlo attraverso eh lo strumento dell'accesso civico generalizzato che è uno strumento molto prezioso che da qualche anno c'è anche in italia su modello anglosassone che possono utilizzare tutti i cittadini quindi non soltanto i giornalisti e attraverso lo strumento dell'accesso civico abbiamo chiesto alle ats e alle sst per sintetizzare ovviamente le i punti richiesti erano diversi a seconda delle strutture ehm ad esempio i decessi nell'RSA eh il flusso ospedali RSA che come sappiamo era un tema delicato eh a seguito di delibere regionali eufemisticamente rivedibili eh i tamponi effettuati agli operatori sanitari delle sst e ai medici di medicina generale i dispositivi di protezione individuale forniti agli operatori e tutta un'altra serie di voci. Noi presentiamo questa richiesta di accesso il primo aprile eh quindi inviando insomma una una mole considerevole di di stanzi di accesso in una situazione di diciamo di quadro nazionale dove eh il governo aveva ehm parzialmente ehm era parzialmente intervenuto sui tempi amministrativi e quindi aveva per talune categorie eh posticipato dei termini di risposta. Quindi già in un quadro atipico e confuso dove le amministrazioni pubbliche ci hanno eh giocato tantissimo scusate la semplificazione. Eh incredibilmente però nell'arco di un mese scarso di norma il tempo per rispondere trenta giorni tutte le ATS e tutte le SST rispondono in blocco con un messaggio identico per tutte quindi condiviso firmato dai dirigenti dai massimi direttori diciamo eh quadri dirigenziali quindi per le ATS per intenderci direttori generali eh ci rispondono e ci rispondono tutte a fotocopie di niego sostenendo che eh la nostra richiesta poiché era massiva cito avrebbe causato eh documento e sarebbe stata causa di intralcio per l'esercizio della buona amministrazione dicendo sostanzialmente eh siamo tutti siamo presi tutto il personale è preso quindi come se un amministrativo fosse in in terapia intensiva e quindi è impossibile rispondere eh ritenta sarai più fortunato. Allora eh già questo è un elemento che si lega a quello che dicevano prima Agnoletto di Serrentino cioè la eh una concezione dei dati epidemiologici come di una diciamo elemento di eh serie Z. Ehm anche l'ATS di Milano ha risposto tra le per ultima e ha risposto in una maniera eh forse ancor più illuminante perché ha risposto dicendo vi cito l'osservatorio epidemiologico regionale sta avviando delle attività collegate alle richieste pervenute anche mediante il coinvolgimento degli uffici di epidemiologia delle ATS e delle amministrazioni comunali che permetteranno di raccogliere e strutturare correttamente i dati mediante elaborazioni valide. Era il 28 aprile cioè ne era passata di acqua e la principale se possiamo dire così ATS Lombarda eh con il suo direttore generale Bergamaschi dava questa risposta dal nostro punto di vista particolarmente interessante. Dopodiché abbiamo fatto ehm istanza di riesame quindi ci siamo rivolti ai responsabili prevenzione e corruzione di tutte le strutture quindi altro giro altra corsa in cui grazie al al lavoro degli avvocati eh Ricciulli ed Ernesto Belisario gli abbiamo detto guarda che il tuo diniego è illegittimo quindi ci devi rispondere e puntualmente ci hanno risposto a dimostrazione del fatto che eh se tieni il punto e hai ragione le risposte possono arrivare ma chissà quanti cittadini di fronte a un diniego della pubblica amministrazione magari insistono e cercano di arrivarne a una. Quindi è una battaglia contro l'amministrazione non è una battaglia con l'amministrazione che è un'altra eh diciamo punto di riflessione eh in Lombardia. Dopodiché hanno hanno iniziato a rispondere sia a livello di SST sia a livello di eh ATS. Mh mi soffermo sul quadro delle ATS anche perché dopo del della bergamasca parlerà Francesca Nava ehm rispetto alle ATS hanno risposto tutte tranne l'ATS di Bergamo ovviamente ehm in maniera abbastanza questa volta è arrivata una sorta di piomba libera a tutti quindi niente più con condivisione regionale probabilmente dei massimi dirigenti regionali anche di qualche dirigente poi eh diciamo sacrificato in maniera presunta eh piomba libera a tutti quindi tutte rispondono in maniera diversa e quindi per esempio ci troviamo ATS che ci dicono il numero dei decessi nell'RSA. Ad esempio Milano che l'aveva già fatto anche con un atto già pubblico ci dice che a la fine di aprile eh anzi mi corrego scusate eh l'ATS di Milano ha comunicato eh i decessi al venti maggio al venti maggio nell'RSA a fronte di tredicimila ospiti avevano eh contato duemila seicentosettantaquattro decessi correlati a covid quindi o sospetti o accertati eh ATS di Milano che copre un territorio dove le indagini della magistratura sono in corso così come a Brescia così come anche in Brianza e non solo quindi comunica i dati. Insieme all'ATS di Milano li comunica anche l'ATS di Insubria quindi territori di Varese come del Mediolario. L'ATS di Insubria ci comunica milleottocentosettantadue decessi registrati tra fine febbraio e il ventisei maggio in tutte le RSA ma per tutte le cause di decesso. I morti accertati covid sarebbero stati trecentonovantatré quindi i duemila e sei e settanta di Milano più i quattrocento scarsi dell'Insubria siamo a oltre tremila decessi solo in due ATS di otto a fotografare un quadro drammatico. Tutte le altre ATS Brianza, Brescia, Montagna, Valpadana eccetera eccetera, Pavia ci rispondono in maniera ovviamente bloccano l'informazione con tesi singolari del tipo non ti comunico i dati perché c'è un'inchiesta della magistratura in corso. Quindi siccome c'è un'inchiesta della magistratura in corso se io te li comunico pregiudico l'indagine come se il magistrato se uscisse la notizia del numero dei decessi gli cambiasse qualcosa rispetto alle responsabilità che deve accertare ed è una tesi ridicola oltre che grave visto che Milano li ha fatti, li ha comunicati i dati e a Milano ad esempio i magistrati indagano sul tuo albergo Tribuzio ma non solo. Quindi delle due luna o Milano ha bruciato le indagini oppure qualcuno sta sostenendo delle tesi insostenibili e ancora altri ATS ci hanno detto non ti comunico i dati perché l'11 aprile il presidente Attilio Fontana che oggi ha dichiarato se abbiamo fatto degli errori saremmo pronti a riconoscerli, ad avere i dati, alcuni ATS ci hanno detto l'11 aprile Fontana ha istituito una commissione di tecnici, io i dati li ho dati a loro e mica posso darli anche a te, i dati sono dei tecnici, no? E altra tesi c'è stato detto i dati sono in corso di validazione presso l'Istituto Superiore di Sanità e qui si torna al tema della epidemiologia di serie Z, in questo caso dal mio punto di vista totalmente infondata perché i dati ci sono benissimo, semplicemente si ritiene sgradevole darne pubblica comunicazione. Altro dato interessante, vado verso la conclusione, è quello relativo ai medici di medicina generale. Anche qui la domanda era semplice, rivolta alle ATS, quanti medici di medicina generale hai sottoposto al tampone? Per collegarmi a quello che diceva prima Vittorio Agnoletto. Le risposte qui sono state molto più reticenti, ancor più reticenti, perché alcune hanno comunicato o il numero dei tamponi, e qui sapete meglio di me, magari lo stesso medico viene sottoposto a più tamponi, se mi comunichi il numero dei tamponi non mi stai aiutando ad avere un quadro completo. Le uniche ATS che hanno comunicato il numero dei tamponi effettuati ai medici di medicina generale sono stati Brescia, Montagna e l'ATS di Pavia, tutte sotto ampiamente il 30% dei medici tamponati. Risultato, l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera aveva dichiarato all'inizio di aprile che la Lombardia avrebbe tamponato tutti i medici di medicina generale, sostenendo che fossero 8.000, a me risultano siano meno, ma lui sosteneva che fossero 8.000. All'inizio di aprile, alla fine di maggio, i medici di medicina generale, i tamponati delle ATS che hanno liberato i dati, sono tutti sotto il 30% e anche qui si pone un tema. Come mai Regione Lombardia dichiara una strategia di sorveglianza sanitaria che poi in realtà non applica? E l'altra domanda che avevamo rivolto alle ASST, veramente chiudo, era quanti operatori sociosanitari hai tamponato, tu ospedale, tra medici, infermiere, eccetera, eccetera? Perché anche qui la Regione aveva detto abbiamo tamponato tutti, tamponeremo tutti, come il Veneto. Per i dati di cui siamo in possesso, alla fine di aprile di quest'anno, gli ospedali Lombardi avevano, o meglio, su indicazione della sorveglianza sanitaria regionale totalmente assenta, avevano tamponato meno del 27% degli operatori della trentina di ASST e di IRCS Lombardi, mentre nello stesso momento in Veneto ne avevano tamponato il 65%. Sappiamo come è andata in Lombardia e come è andata in Veneto. Quindi siamo in una situazione che quando il dato esce è drammatico per la risposta messa in campo, prevalentemente il dato non esce. Concludo soltanto su Bergamo, anche per lanciare la palla per Francesca Nava, con la TS di Bergamo andiamo al TAR. Nel senso che una delle armi amministrative, degli strumenti amministrativi che rimangono ai cittadini, è quello del ricorso al TAR di fronte al diniego in prima e seconda istanza. Non capita spesso che una testata giornalistica vada in tribunale amministrativo contro l'amministrazione pubblica, però io personalmente penso che sia un passaggio fondamentale, uno per quanto è stata colpita Bergamo, due per l'atteggiamento della TS Bergamo che ha sostanzialmente trattato la trasparenza come forse appunto un documento per la buona amministrazione. Io mi fermo qui e vi ringrazio e spero di essere stato nell'impegno sotto al quarto d'ora.